Argomento e parliamo di linea alla scuola. Linea alla scuola è il format che Mattina Live porta avanti con la Fondazione Cultura e Innovazione. Linea alla scuola è una vera e propria testata giornalistica dove i ragazzi sono giornalisti, tecnici del suono e delle luci, reporter, insomma vivono in prima persona l'esperienza dalla penna alla televisione. Oggi qui con noi abbiamo i ragazzi dell'Istituto Abele De Blasio di Guardia San Framondi, organizzatesi in redazione con il tutore Raffaele De Lucia. Dunque saluto e do il buongiorno e il benvenuto in primi sala docente Viviana Palladino, buongiorno. Buongiorno. E poi agli alunni qui in rappresentanza della scuola, quindi Maria Sofia Falato, buongiorno. Buongiorno. Simona Morone, buongiorno. Sofia Romano. Buongiorno. E Isabel Vaccarella, buongiorno. Ecco, inizio proprio dalla docente, professoressa Palladino. Sono stati tre incontri sicuramente molto intensi, i ragazzi si sono approcciati a questa nuova esperienza. Che tipo di lavoro è stato svolto? È stata innanzitutto un'esperienza incredibile per questi ragazzi, un percorso professionalizzante sul mondo del giornalismo che li ha coinvolti notevolmente, li ha interessati. ha consentito loro di, innanzitutto, toccare con mano quello che è il complesso mondo del giornalismo attraverso delle prime lezioni di natura teorica, per poi passare alla sperimentazione. Loro hanno avuto modo di girare un vero e proprio telegiornale all'interno della scuola. Esatto, tra poco lo vedremo. Ci saranno sicuramente anche divertiti, quindi, ma hanno anche appreso una nuova modalità di lavoro. E vado proprio da loro. Iniziamo da Maria Sofia. Sono stati ovviamente tre incontri, come dicevo, molto intensi. Nel corso di queste lezioni avete avuto modo di sperimentare che cosa significa essere una redazione televisiva. Avete lavorato in gruppo, avete affrontato temi differenti. Che esperienza è stata? Allora, io penso che è stata sicuramente, come ha detto la prof, una grande esperienza, perché noi siamo riusciti ad apprendere cose nuove divertendoci e quindi collaborando, trovando anche dei modi nuovi per imparare a lavorare meglio in gruppo. Ecco, Simona, che cosa è venuto fuori da questa esperienza, quindi? Oltre al divertimento è uscito fuori che, mettendo insieme le nostre idee, siamo capaci di realizzare prodotti finali molto belli, come il telegiornale. Quindi il lavoro di gruppo. Sì. Il lavoro di unione, di gruppo, di coesione e quindi anche delle idee magari innovative, che prima di questo momento forse non avevate mai sperimentato, giusto? No, abbiamo scoperto delle comunicazioni, delle nuove tecnologie e quindi abbiamo aperto gli occhi e la mente. Sofia, che esperienza è stata quindi prendere parte a questo progetto? Che cosa ha significato per te diventare una vera e propria redazione televisiva? Allora, per me è stata un'emozione abbastanza bella, ma anche emozionante, anche perché stare per la prima volta davanti a una telecamera vera è stato bello. Emozionante? Sì. E che cosa avete provato? Abbiamo fatto varie scene di telegiornale, ci siamo divertiti. Ed è stato un lavoro abbastanza interessante, oltre che impegnativo, immagino. Giusto? Abbastanza. Abbastanza. Isabelle, qual è stato l'aspetto, se ce n'è uno in particolare, di questa esperienza che ti ha colpito? Mi ha colpito entrare in questo mondo, che è un mondo molto complicato e interessante. Come ha detto anche Sofia, è stata un'esperienza unica, proprio interpretare giornalisti e inviati. Ebbene, avete avuto modo e avete messo a punto un progetto davvero complesso, l'avete accennato prima. Appunto sto parlando del videogiornale. E vi va di raccontarci che cosa avete prodotto? Allora, l'esperto, quando ci siamo conosciuti, ci ha subito mostrato un lavoro di una scuola in cui lui si era regato precedentemente. E quindi ci ha fatto capire come era divertente imparare queste nuove cose realizzandone uno nostro. E quindi abbiamo deciso di realizzare questo telegiornale in cui ognuno metteva, diciamo, in scena una vera e propria redazione, raccontando dei fatti di cronaca, anche cronaca nera, ma musica, sport, eccetera. Tutti gli ambiti. Esatto. Bene, l'abbiamo citato. A questo punto direi di vederlo, questo videogiornale che avete realizzato. Buongiorno, sono Simona Morone. Buongiorno, sono Isabel Vaccarella. Benvenuti al nostro videogiornale. Apriamo il giornale parlando di cronaca. Omicidio a Benevento, sul posto la nostra inviata Maria Sole. Grazie, Simona, per la linea. Siamo a Guardia San Framonti, dove pochi minuti fa è successo un delitto. La vittima è stata sparata al petto. Sappiamo che si chiama Marcello. L'assassino si presume che si chiama Filippo Di Blasio, che per questioni di natura economica avrebbe ucciso l'amico d'infanzia. Prego, il cameraman di girassi perché stanno portando via l'assassino. Continuiamo il nostro giornale parlando sempre di cronaca. Ci trasferiamo alla scuola di Guardia San Framonti di Blasio, dove da giorni è in atto una protesta per il malfunzionamento dei termosifoni. Sul posto la nostra inviata Elisa. Ciao, grazie per la linea Isabel. Ci troviamo alla scuola di Blasio, dove da giorni i ragazzi stanno lamentando per il malfunzionamento dei termosifoni. E qui abbiamo una rappresentante d'istituto. Federica, cosa sta succedendo nella tua scuola? Sono giorni che facciamo lezioni con i cappotti. Fa molto freddo e i termosifoni sono rotti. Preside, quando vogliamo aggiustarli questi termosifoni? Come vedete i alunni sono parecchio arrabbiati. Se non avete altre domande vi restituisco la linea. Cambiamo decisamente argomento. Adesso parliamo di musica. Ci trasferiamo a Benevento, dove la nostra inviata Filena è in compagnia della giovane artista Emily. Ciao Simona, grazie per la linea. Ci troviamo a Benevento, dove ci sarà il debutto della giovane artista di Guardia San Framonti, Emily. che la prossima settimana sarà a New York per aprire il suo concerto di Justin Bieber. Quali sono le emozioni che provi nell'aprire un concerto così importante? Sono molto emozionata di essere a New York. Spero un giorno di ripetere la carriera di Justin Bieber. Adesso la pagina sportiva. A Benevento la scuola di Blasio si è giudicata il torneo scolastico. Sul posto la nostra inviata, Maria Sofia. Grazie della linea Isabel. Siamo presso lo stadio Vigorito a Benevento, dove si è appena concluso il torneo scolastico tra la squadra della scuola De Blasio e quella della scuola Garibaldi, a vincere i ragazzi della De Blasio. Con me abbiamo il capitano della squadra vincitrice De Blasio, Umberto. È stato difficile portare a casa la Coppa? No, noi siamo stati fortissimi e per noi è stato un gioco da ragazzi. Qui invece c'è Carlo, capitano della squadra della scuola Garibaldi. Vi impegnerete di più per vincere l'anno prossimo? Allora, sicuramente ci impegneremo di più per vincere l'anno prossimo e dovremo lavorare molto di più. Se non avete altre domande da studio vi restituisco la linea. Continuiamo il giornale parlando di moda. Le nuove tendenze dell'estate raccontate da Alessandra e dalla stilista Giulia. Ciao Simona, siamo nella settimana della moda a Roma. Abbiamo come ospite Giulia. Giulia, per la prossima estate qual è la tendenza? Per la prossima estate tornerà di moda l'ombelico fuori, la maglietta corta e i pantaloni a zampa. Prima di salutarvi vi mando una clip della sfilata appena finita. A Benevento è il concorso Osso d'Oro, in finale Charlie e Ice, con i loro padroni Maria Sole e Sofia. A te la linea liviana. Grazie per la linea Isabel, siamo a Benevento è il concorso Osso d'Oro. In finale sono finiti Charlie e Ice e i loro padroni sono Sofia e Maria Sole. Inizia la finale. Prima prova, dai la zampa. Seconda prova, salta e abbaia. Terza prova, rotola. Avete visto l'esibizione, chi vota per Charlie? Chi per Ice? Isabel, come hai potuto vedere ha vinto Charlie. Ora intervisteremo la padrona per vedere se è contenta. Sei contenta? Sì tantissimo, a lei è stata sempre un buccane, sia con i bambini che gli adutti. Quanto sei contento Charlie che hai vinto! E prima di concludere, le previsioni del tempo. Buonasera, da domani allerta a meteo in Gambalia. Come possiamo vedere sulla cartina, ci sarà neve a Benevento e pioggia su Napoli. Le previsioni miglioreranno da dopo domani. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci! E complimenti davvero per aver prodotto questo bellissimo videogiornale. Io vi ringrazio veramente di essere state in nostra compagnia stamattina. In primis la docente Viviana Palladino. E poi Maria Sofia, Simona, Sofia, Isabel, in rappresentanza dell'Istituto Abele de Blasio di Guardia San Framondi. Grazie ancora e pubblicità. A tra poco con Mattina Live!